Attenzioni concentrate su Mbappé alla vigilia. La regia che si conferma sul marcatore principe di questa UEFA Champions League qui impegnato nel riscaldamento, un brutto cliente certamente per la difesa avversaria. I esporti portano lo spettacolo del grande calcio, non andate via. La partita di oggi per il Milan sembra poco più che una formalità. Il punteggio dell'andata sembrerebbe chiudere le porte a una possibile rimonta. Nel calcio però, Pierre, non bisogna mai dar niente per scontato. Sarebbe un errore che potrebbero pagare caro. Sarebbe un errore che potrebbero pagare caro. Sarebbe un errore che potrebbero pagare caro. 6. 6. 4. 4. 5. 6. 5. 6. 5. 5. 6. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti